Il titolo dell'opera è Omi Kenji, Senjin Yakata, detto anche Morizuna Jin-Nya, ovvero l'accampamento di Morizuna. Scritto per i burattini nel 1769 da Chikamatsu Hanji, di questa lunga opera sopravvive solo l'ottavo atto. È stato adattato per i kabuki nel giro di pochi anni della sua prima produzione ed è diventato essenzialmente una prova d'attore, essendo il ruolo di Morizuna considerato uno dei più belli del kabuki. L'opera riguarda l'assedio del castello di Osaka, qui chiamato Castello di Sakamoto, e la sconfitta finale di Toyotomi Hideyori. L'atto 8 consiste in una sottotrama riguardante due fratelli e può quindi essere considerato un'opera a sé. Sasaki Morizuna e Sasaki Takatsuna, che nella vita reale sarebbero Sanada Nobuyori e Sanada Yukimura, sono generali in opposte fazioni. Takatsuna, il più abile e audace dei due, sta combattendo per la parte che sta avendo la peggio, quella di Minamoto Yoriye, nella realtà Toyotomi Hideyori, il figlio di Hideyoshi. Egli pianifica un disperato stratagemma per cercare di riguadagnare la posizione. Sa che la sua reputazione come generale è tenuta in grande conto e crede che, se il nemico lo pensasse morto, potrebbe forse allentare la stretta mortale. Il personaggio di Takatsuna, che non appare mai sul palco, domina l'intera opera. È un uomo spietato e brillante, con il potere di mantenere l'adevazione che hanno in pochi. Il suo piccolo figlio è pronto a morire per lui. L'affetto del fratello per lui è il tema dell'opera. Egli può leggere Morizuna come un libro aperto ed è per questo che il suo stratagemma ha successo. Il magnetismo personale di Takatsuna dà un senso alla serie di incredibili eventi. Il personaggio di Morizuna, in altre parole, possiede una vena di femminilità. Quando cerca di comprendere i motivi del fratello, tutto ciò che riesce a immaginare, è cosa avrebbe sentito e fatto nelle medesime circostanze. Takatsuna lo sa e ci conta. È a causa di questa prospettiva parziale che è il meno abile dei due. I sentimenti personali ne oscurano il giudizio, non solo nella scena finale, ma anche all'inizio dell'opera, quando crede che suo fratello farà un disperato tentativo di salvare il figlio, Koshiro. Ciò è quanto avrebbe indubbiamente fatto lui stesso. Se avesse davvero compreso la natura del fratello, si sarebbe reso conto che tale abbandonarsi alle emozioni da parte di Takatsuna era improbabile. 8. Il campo di Sasaki Morizuna vicino al lago Biwa. L'emblema di Morizuna è ben visibile sui muri del suo quartier generale. In una breve scena, ormai non più rappresentata, Morizuna ritorna vittorioso dalla battaglia, accompagnato dal figlio piccolo, Kosaburo, e dal nipote Koshiro, che Kosaburo ha catturato. Sono ricevuti dalla moglie di Morizuna, Aiase, e dalla sua madre, Bimio. Morizuna desiderava uccidere Koshiro sul campo di battaglia per risparmiargli l'uminazione di essere catturato, ma il suo comandante in capo, Ojo Tokimasa, nella realtà Tokugawa Ieyasu, ha ordinato che la vita del ragazzo fosse risparmiata. Morizuna affida Koshiro alle cure di Bimio e si ritira per rimuovere i residui della battaglia. Qui ha inizio l'atto. Giunge voce che Wada Idemori, un comandante sottoposto a Takatsuna, sia arrivato chiedendo di parlamentare. Morizuna è stupito, ma lo riceve. La sua sorpresa si muta in sospetta quando Wada lo prega di rilasciare Koshiro. Morizuna non riesce a capire perché questo ufficiale sia così ansioso riguardo a un ragazzo che, dal punto di vista militare, è insignificante. Sente che deve esserci qualche stratagemma dietro la sua richiesta. Per guadagnarsi del tempo a se stesso per riflettere, risponde evasivamente, deridendo in modo spezzante Wada per aver umiliato se stesso nell'interesse del ragazzo. Wada però non demorte. Morizuna inizia a immaginare che la richiesta non provenga da Wada, ma da Morizuna. Egli respinge la richiesta bruscamente. Koshiro è privo di importanza, ma nonostante ciò non può essere rilasciato senza il permesso di Ojo Tokimasa. Quando Wada insiste, Morizuna aggiunge che ogni tentativo di prendere il ragazzo con la forza sarebbe vano e, per provarlo, chiama la sua guardia. Wada alla fine lascia perdere e se ne va per portare la sua supplica a Tokimasa stesso. Quando raggiunge la Namichi, si ferma ed esprime la propria soddisfazione. Il rilascio di Koshiro non è il suo obiettivo. Egli è venuto per impiantare nella mente di Morizuna l'idea che l'affetto e l'ansia di Takatsuna per il figlio potrebbe offuscare il suo giudizio. E in questo ha chiaramente avuto successo. Rimasto solo, Morizuna cerca di riflettere su quanto è avvenuto. Più ci pensa e più gli sembra possibile che l'angoscia per il figlio abbia scurato la ragione del fratello. L'idea che prende in forma in lui è che se il fratello è stato disposto a umiliarsi a tal punto per il figlio, forse potrebbe anche diventare un traditore per la sua salvezza. Il pensiero lo atterrisce. Si chiede se Tokimasa abbia intuito questo e se proprio dallo scopo fosse ansioso di prendere Koshiro vivo. Koshiro sta facendo del padre un codardo. Se Koshiro fosse morto, suo padre non sarebbe potuto essere tentato. Così va ragionando Morizuna, giudicando Takatsuna su se stesso. Koshiro deve morire per salvare il proprio padre dal disonore. Morizuna però non può uccidere un prigioniero che gli è stato detto di preservare. Ponderà le cose e quindi trova la soluzione. Koshiro deve suicidarsi. Deve essere persuaso che la morte è migliore della vergogna dell'essere fatto prigioniero alla sua prima battaglia. La persona che deve farlo è sua nonna, Bimio, dato che Morizuna non può interfacciarsi con il ragazzo. Morizuna si prepara e sottopone il problema alla madre. Per convincerla che solo la morte dell'impoto può evitare il disonore del figlio, fa ricorso a tutto il suo fascino e la sua persuasività. La sollecita quasi come se fosse un'implorazione di un amante. È pienamente consapevole della spaventosa natura della sua richiesta. Alla fine, Bimio ha consente a farsi carico del compito. Morizuna le consegna la sua spada, dicendole che, se Koshiro si rivelasse un vile, deve ucciderlo. Entrambi piangono per il dolore. La campana della sera suona al campo e Morizuna dice tristemente, pensando al ragazzo. Il breve giorno è quasi finito. Lui e Bimio escono da lati diversi. Il palco è vuoto. Takatsuna non è certo di quanto la missione di Wada abbia avuto un buon successo. È determinato a convincere Morizuna della sua ansia disperata per il figlio. Perciò manda sua moglie, Kagaribi, la madre di Koshiro, per un'ulteriore stata gemma. La donna compare travestita da soldato e scaglia una freccia contro un albero che si trova vicino al quartier generale di Morizuna. Legato alla freccia vi è un messaggio, che sembra evidentemente indirizzato a Koshiro, ma in realtà è diretto a Morizuna, e recita. Potessi io vederlo giungere in segreto. Una citazione di un ben noto poema. Vi dico la verità, ho provato a cercare il verso su internet, ma non ne è uscito alcun risultato, tranne quello concernente il piccolo manuale del Kabuki stesso. Takatsuna intende con questo messaggio convincere il fratello che sta suggerendo al ragazzo di fuggire. Mentre Kagaribi rimane all'ingresso, Hayase esce dalla stanza interna, vede la sua freccia e legge il messaggio, e riconosce sia la grafia che il messaggero, ma non sa cosa rispondere. Così attacca la freccia in una criptica poesia. Se rimanere o partire, la barriera di Osaka non sa dire, e la tira contro un albero che si trova all'esterno del portone. Kagaribi, interpretandolo come un invito ad aspettare, culla la speranza di poter rivedere di sfuggita il figlio, mentre Hayase rientra in casa. Adesso appare Koshiro, una minuta patetica figura. È seguito dalla nonna, che sta cercando di convincerlo che suicidarsi è suo dovere, ma Koshiro non cederà. Lei gli offre una spada corta, ma lui scuote la testa, dicendo che prima di morire vuole rivedere i suoi genitori e tagliare la testa di qualche nemico. Scappa da Bimio, che lo insegue con la spada in pugna, minacciandolo di ucciderlo, lei stessa se non intende morire come dovrebbe un samurai. Koshiro la supplica e lei non riesce a trovare la forza di colpirlo, finendo per scoppiare in lacrime e abbracciare il bambino, dichiarando che non può compiere un tale terribile atto. A questo punto, Koshiro vede la madre fuori dal portone e cerca di andare da lei, ma Bimio non glielo consente e lo trascina dentro la casa. Kagaribi sfonda il portone e sta percorrendo dal figlio quando si ode il suono di un tamburo da guerra. Hayase si fionda fuori dalla casa con una lancia in pugno e impedisce a Kagaribi di entrare. Compare Morizuna, allarmato dai rumori, e manda il figlio Kosaburo a capire cosa sta succedendo. Un messaggero, Shinra Kutaru, arriva in fretta e furia e annuncia che Takatsuna, dolorosamente angosciato per il figlio, ha lanciato un disperato attacco al campo, ma le sue forze sono così scarse che sta venendo respinto con grosse perdite. Morizuna crede che Takatsuna finirà inevitabilmente ucciso. Arriva un secondo messaggero, Ibuki Tota, con la notizia che l'attacco è stato già schiacciato e che Tokimasa si sta dirigendo al campo. Questo messaggero fornisce un po' di comico sollievo alla tensione del dramma, mimando le fasi della battaglia. Morizuna esce per prepararsi ad accogliere il suo signore. Ojo Tokimasa, che in realtà rappresenta Tokugawa Ieyasu, entra dalla Namichi con il suo seguito. Dice a Morizuna che il suo fratello è stato ucciso ed egli ha portato la testa di Takatsuna in modo che Morizuna possa identificarlo. La scatola per la testa gli viene appiazzata davanti. Quanto questo compito sia doloroso, appare chiaramente sul suo volto. Non riesce a scoprire la testa ammozzata fino a che Tokimasa non glielo ordina rudemente. Koshiro apre lentamente la porta della stanza interna e osserva la scena. Quando Morizuna solleva il coperchio della scatola, vede la testa e grida, Mio padre! Sguaina la spada e si suicida. Morizuna rimette a posto il coperchio senza nemmeno aver guardato. Ogni suo dubbio che non fosse il fratello è stato dissipato dal comportamento di Koshiro. Morizuna gli chiede con penosa sofferenza che cosa lo abbia spinto a suicidarsi proprio ora e Koshiro risponde che desiderava vivere solo per rivedere di nuovo il padre. Tokimasa chiede di nuovo con urgenza a Morizuna di identificare la testa. Lentamente Morizuna solleva di nuovo il coperchio e con gli occhi chiusi procede al rituale del lavaggio della testa prima dell'identificazione. Non può sopportare di aprire gli occhi e vedere il volto del fratello. Alla fine si costringe a guardare. Questo è il grande momento dell'opera e l'attore dovrebbe, in completo silenzio, mostrare le seguenti sette emozioni. Il dolore e la repulsione per il compito impostoli. Lo stupore nello scoprire che non è la testa del fratello. La mistificazione. La gioia che il fratello non sia morto. La speculazione sul perché Koshiro abbia commesso suicidio dato che la testa chiaramente non è quella del padre. A questo punto l'attore dovrebbe far trasparire che inizia lentamente a comprendere l'intero piano. La serie di stratagemmi di Takatsuna atti a rendere realistica la sua presunta morte con, quale tocco finale, la morte di Koshiro. L'ammirazione per Koshiro in conflitto con i suoi doveri verso Tokimasa. E infine la sua decisione finale di non poter vanificare il valoroso sacrificio del bambino. Morizuna dice deliberatamente, a dispetto della ferita di freccia sulla fronte, questo è senza dubbio il volto di mio fratello Takatsuna. Koshiro alza gli occhi e lo fissa. Morizuna prende la testa della polone di fronte a Tokimasa che lo ringrazia e se ne va dopo avergli fatto dono di un baule per armatura come ricompensa per i suoi servigi. Rimasto solo con la sua famiglia, Morizuna dice alla moglie e alla madre che la testa non è quella di Takatsuna e che il fratello è vivo. Voltando il viso di Koshiro verso di sé, fissa il bambino con dolore e ammirazione e gli rivolge sentite parole di elogio. Chiama Kagaribi dal suo nascondiglio dicendole di venire a darle addio al figlio. Koshiro muore tra le braccia della madre. Dopo la morte di Koshiro, Morizuna realizza l'enormità di ciò che ha fatto. Ha permesso le sue emozioni di condurlo esattamente allo stesso tipo di tradimento che sperava di evitare al fratello. Incapace di sopportare tale disonore, Morizuna si prepara a suicidarsi, non riflettendo che questo invaliderebbe le azioni di Koshiro come se non avesse mai testimoniato il falso. Ignorando le suppliche della moglie, estrae la propria spada, ma in quel momento ricompara Wada Idemori. Egli era rimasto nascosto nel campo per riportare a Takatsuna il successo del piano. Wada grida a Morizuna di fermare la propria mano. Wada estrae una pistola che punta verso Morizuna, ma di colpo si gira e spara contro il baule per armature lasciato lì da Tokimasa. Dal baule fatto a pezzi esce una spia nascostavi per controllare Morizuna. Tokimasa sembrava conoscere la debolezza del suo generale. La spia cade morta. Wada dice a Morizuna che non è il momento di morire. Presto si incontreranno sul campo di battaglia e lì Morizuna potrà trovare una morte onorevole senza incrinare la devozione alla sua stessa carne e sangue. L'opera, anzi l'atto 8 dell'opera, finisce qui. Il famoso assedio di Osaka, atto che mise fine al clan Toyotomi per opera di Tokugawa e Yasu, si compone di due parti, dette campagna invernale e campagna estiva. Nella campagna invernale, iniziata il 19 novembre e conclusa il 22 gennaio, le forze Tokugawa, nonostante la loro superiorità di uomini, 164.000, e artiglieria, non riuscirono a sconviggere in modo decisive le forze di Toyotomi Hideyori, il figlio di Hideyoshi, e durante l'assedio al castello, durato dal 4 dicembre 1614 al 22 gennaio 1615, Sanada, Yukimura e le sue truppe si distinsero in diverse azioni coraggiose. Questo scontro si concluse con un armistizio tra le due parti, che però si rivelò soltanto un trucco di Ieyasu, il quale, contravenendo ai patti, si affrettò a diminuire drasticamente le difese formidabili del castello di Osaka, abbattendo parte delle sue mura e interrando il fossato. Nell'aprile del 1615, le due fazioni si ritrovarono di nuovo ai ferri corti, e ci furono una nuova serie di dure battaglie. Il 29 aprile, battaglia di Kashi, tra Ban Naoyuki, Toyotomi, e Asano Nagakira, Tokugawa, per il castello di Wakayama. Il 2 giugno, battaglia di Domi-yoji, nella quale Goto Motutsugu, per Toyotomi, si uccise dopo la sconfitta, e nella quale Date Masamune, Tokugawa, costruinse alla ritirata le truppe di Sanada Yukimura. La notte tra il 2 e il 3 giugno, battaglia di Yao, nella quale Chosokabe Morichika, che combatteva per Toyotomi, sconfisse Todo Takatora, che combatteva per Tokugawa, ma fu poi costretto alla ritirata dall'arrivo dei rinforzi dei Tokugawa. Nella stessa notte, battaglia di Wakai, dove Kimura Shiganari, che combatteva per Toyotomi, fu sconfitto da Naotaka, che combatteva per Tokugawa. Il 3 giugno, battaglia di Tennoji, a Osaka, con circa 72.000 uomini di Toyotomi contro 155.000 dei Tokugawa. In questa ultima battaglia morì Sanada Yukimura, fattore determinante per lo sbandamento dell'esercito di Toyotomi Hideyori, il quale si rinchiusa nel castello e si suicidò. Tecnicamente, Tokugawa Ieyasu si era dimesso dalla carica di Shogun nel 1605, carica che passò al figlio Hide Tada, 1579-1632, ma egli continuò di fatto a tirare le fila del potere e partecipò attivamente a questa guerra. Morirà l'anno successivo, nel 1616. Il figlio di otto anni di Hideyori, Kurimatsu, venne catturato ed è capitato a Kyoto, mentre sua figlia, avuta da una concubina, Naahime, divenne monaca presso il Tokyo Eiji di Kamakura. Sanada Nobuyuki, 1566-1658, primo figlio di Sanada Masayuki, servì prima sotto il clan Takeda, ma quando questo fu sconfitto tornò al castello di Ueda dove combatte contro Tokugawa Ieyasu nel 1585. Successivamente divenne un servitore di Ieyasu, mentre il padre e il fratello scelsero di servire Toyotomi Hideyoshi e addirittura sposò Komatsu Ime, figlia di Honda Tadakatsu, 1548-1610, conosciuto come il samurai che sconfisse la morte, e credo sia sufficiente a dare un'idea del personaggio. Ed essa era anche figlia adottiva di Ieyasu. Dopo la battaglia di Sekigara nel 1600, tra Tokugawa e le forze di Ishida Mitsunari chiese come ricompensa di salvare la vita al padre e al fratello, che vennero dunque esiliati sul Monte Koya, provincia di Kii. Nonostante il fratello e il padre si fossero opposti a Tokugawa per pen due volte, visse estremamente onorato fino all'età di 92 anni. Sanada Yukimura, 1567-1615, il cui vero nome era Nobushige, secondo figlio di Sanada Masayuki, è il samurai noto come il demone cremesi o l'eroe che appare ogni 100 anni. È una figura storica che è divenuta leggenda. Sposò nel 1594 Haki-ime, 1569-1649, detta anche Chikurin-in, figlia di Otani Yoshitsugu, 1560-1600. Anche costui è un tipo particolare, di origini sconosciute. Entrò al servizio di Toyotomi da Yoshi quando era ancora all'inizio, combattendo anche nella battaglia di Shizugatake e circa nel 1585 si ammalò di lebra, ma potrebbe essere stata sifilide. Nonostante questo, egli non si fermò e anzi combatté in tutte le guerre di Hideyoshi, persino in Corea, e per andare sul campo di Sekigahara si fece addirittura portare in portantina, essendo ormai cieco e invalido. Quest'ultima, dicevamo, era figlia adottiva di Toyotomi da Yoshi, 1537-1598. Yuki Mura combatté assieme al padre nel secondo assedio di Ueda nel 1600, bloccando Tokugawa Idetada, con 40.000 uomini contro i suoi 2.000, evento che gli impedì di raggiungere Sekigahara e che fece condannare a morte lui e il padre come traditori, pena commutata in esilio sul Monte Koya, provincia di Chi. Come detto in precedenza, comandò le forze di Toyotomi di Yori contro i Tokugawa durante l'assedio di Osaka, dove morì, sembra a causa della fatica. Sanada Yuki Mura ebbe diversi figli, sei figlie e quattro figli. Ma quello dell'opera è Sanada Daizuke, nato nel 1602 durante il suo esilio, e che combatté nella sedia di Osaka e si suicidò assieme a Toyotomi di Yori. Aveva dunque circa 13 anni. Sanada Yuki Mura è naturalmente un personaggio famosissimo negli anime, nei manga e nei videogames. Perciò ne citerò solo alcuni, quali Sengoku Basara, Samurai Warriors e Nioh. Nell'anime Cinque Samurai, il personaggio di Ryo del Fuoco è un discendente di Sanada Yuki Mura. Per completezza, Sami, o detto in realtà Seiji, discende da Date Masamune. Simo, Shin, appartiene al clan Mori. Kimo, Toma, fa di cognome Ashima, ovvero il precedente cognome di Toyotomi de Yoshi. Shido, Shu Reifuan, è di origine cinese, perciò non ha un corrispettivo tra i samurai dell'epoca, Sengoku. Passiamo ai personaggi storici nominati nell'opera per eludere la censura. Sasaki Morizuna, 1151, data di morte sconosciuta ma dopo il 1205, detto anche Kaji Morizuna, era il terzo figlio di Sasaki Hideyoshi, quindi parte del clan Udagenji. Dopo la sconfitta di Minamoto Yoshitomo, si rifugiò nel canto dove furono protetti da Shibuya Shigakuni e più tardi si unì a Yoritomo quando quest'ultimo iniziava a combattere Taira e n'era forse il suo vassallo più fidato. Combatté nella battaglia di Ishibashi Yama, persa da Minamoto, e si rifugiò di nuovo con il fratello da Shibuya Shigakuni, che invece aveva combattuto dal lato Taira. Successivamente si riunì a Yoritomo dopo la presa di Kamakura per la battaglia di Fujigawa e condusse la battaglia di Fujito. Restò a fianco di Yoritomo fino alla sua morte nel 1199, in seguito alla quale si fece monaco prendendo il nome di Sainan. Nonostante i voti, sedò la rivolta di Jo Sukimori e Hagaku Gozen nella battaglia del 5 aprile 1201 al castello di Tosaka-Jo, provincia di Echigo, e nel 1205 si unì all'armata che sconfisse Iraga Togumasa in quello che viene detto l'incidente di Makishi. La sua lapide si trova a Kurashiki City. Sasaki Takatsuna, 1160-1214, era il fratello di Morizuna e combatte sia a Ishibashi Yama che nella battaglia di Uji nel 1184, ed è famoso per essere stato il primo ad attraversare il fiume in sella ai Ikezuki, il cavallo donatoli da Yoritomo, battendo in velocità Kajiwara Kagesue. Nel 1195 si ritirò come monaco sul Monte Koya, lasciando al figlio i suoi titoli di governatore della provincia di Nagato. Il lettore si ricorderà di averlo già incontrato. È il suo discendente Nogi Marisuke, detto anche Kiten, o Conte Nogi, 1849-1912, che a noi magari non dirà nulla, ma in Giappone è un errore nazionale, essendo al comando delle forze che conquistarono Port Arthur in un solo giorno, nel 1894, durante la Prima Guerra Sino-Giapponese. Comandò la seconda divisione durante l'occupazione di Taiwan nel 1895, rimanendo sull'isola fino al 1888, quando fu richiamato, e infine guidò la terza armata nella conquista di Port Arthur, sì, di nuovo, durante la guerra russo-giaponese nel 1905, che costò la vita a moltissimi soldati giapponesi, tanto che, una volta rientrato in patria, durante la partecipazione a un ricevimento imperiale, raccontando le sue avventure durante l'assedio, ruppe in lacrime e chiese all'imperatore Meiji di potersi suicidare, cosa che l'imperatore gli negò. Difatti, Nogi si suicidò il giorno dopo il funerale dell'imperatore, assieme alla moglie Shizuku, ovvero il 13 settembre 1912. A lui sono dedicati due santuari, uno uscito a Tokyo, eretto nel 1923, distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Quello astuale è stato ricostruito nel 1963, dove Nogi è venerato come un kami, mentre l'altro si trova a Kyoto, nella zona del Fushimiku, dove si trovano il santuario Fushiminari, quello delle migliaia di tori, il castello Momoyama di Toyotomi Hideyoshi e la locanda Teradaya, dove fu assalito il famoso Sarkamoto Ryoma. Ojo Tokimasa, 1138-1215, è un bel villai. È stato il tutore del giovane Minamoto Yoritomo e gli ha dato in sposa la figlia, Ojo Masako. Alla morte del genero nel 1199 mise in moto un piano per eliminare le figure più importanti che affiancavano il figlio di Yoritomo, il nuovo shogun Yoriye, che gravitava nella sfera di influenza di altre casate, eliminandoli fisicamente e arrivando a essere nominato Shiken, ovvero reggente dello shogun, e nel 1204 destituì e fece uccidere Yoriye e il di lui figlio Ichima, al fine di passare lo shogunato all'altro figlio di Yoritomo, Sanetomo. Non contento, con la seconda moglie, Maki, che non era quindi la madre di Masako, cercò di fare leggere il marito della loro figlia in comune, quindi un altro genero, Hiraga Tomo Masa, al rango di shogun al posto di Sanetomo nel 1205, ma venne fermato dall'opposizione dei suoi stessi figli Ojo, Yoshitoki e Masako, la vedova di Yoritomo, che lo costrinsero a ritirarsi e a prendere i voti. L'episodio è noto come incidente di Maki. Il castello di Sakamoto, attualmente nella città di Otsu, poco a nord-est di Kyoto, direttamente a est del monte Yei, fu eretto nel 1581 per ordine di Oda Nobunaga, sulle rive sud-ovest del lago Biwa, dopo la sconfitta dei monici del Yezan e il rogo del tempio Ryakugi, e per impiazzare il castello di Usayama, la cui guarnigione era stata sconfitta dalle forze Asai Asakura nel 1570, come fortezza che controllava l'importante passo tra Kyoto e la provincia di Omi, l'attuale prefettura di Shiga. Inoltre, era direttamente collegato tramite il lago Biwa al castello di Azuki. Dopo la sconfitta del 1582 di Akechi Mitsuhide, che ne era stato reso il comandante da Oda, a opera della forza di Toyotomi nella battaglia di Yamazaki e la sua successiva morte di Mitsuhide durante la fuga ad opera di un armato di una lancia di Mabu, mentre era diretto proprio verso il castello di Sakamoto, il figlio di Mitsuhide, Akechi Idemitsu, visse a Sera Lyo in un'ultima resistenza, finendo comunque sopraffatto, e il castello venne smantellato nel 1586 e rimpiazzato dal castello di Otsu. Attualmente del castello rimangono praticamente da vedere solo poche rocce e una, devo dire, orrenda, statua commemorativa di Akechi Mitsuhide. Ciò comporta che Ojo Tokimasa non può aver assadiato il castello di Sakamoto, essendo morto circa 250 anni prima della sua costruzione. Ma, come ho detto, i nomi e i luoghi sono stati cambiati per sfuggire alla censura, e chiaramente all'epoca non vi erano pistole in Giappone, e forse da nessuna parte, dato che le prime pistole iniziano a circolare nel 1535 circa. Il Monte Koya, detto anche Falmi familiarmente Koya-san, si trova a sud di Osaka, nella prefattura di Wakayama, penisola di Ki, ed è considerato uno dei più potenti luoghi mistici del Giappone, in epoca Kamakura. Assieme al Monte Iei e al Monte Koya, formava la triade detta Sanzenbo Sanza. Il complesso monastico del Monte Koya è stato fondato nel IX secolo dal monaco Kukai, detto anche Kobo Daishi, ed è circondato da una foresta dei cedri. È possibile prenotare in una delle foresterie e partecipare ad alcuni riti. Non ho trovato informazioni su Wada Idemori, ma potrebbe essere lo storico Wada Yoshimori, un samurai di un ramo cadetto dei Miura, che divenne uno dei più fidati collaboratori di Minamoto Yoritom, ed è protagonista dei disordini avvenuti dopo la sua morte nel 1199, nella lotta per il potere di Ojo Tokimasa, volta a escludere gli altri fiduciari come Kajiwara Kagetoki, Iki, Atekayama Shigetada e lo stesso Wada.